Pordenone è diventata, per una sera, l'America degli anni 30, descritta da John Fante, quel pianeta di sogni e di jazz che pareva dare a chiunque la speranza di diventare qualcuno. È un'altra magia dell'estate in città, che unisce il fascino della letteratura e della musica raffinata al piacere del girovagare per le stradine del centro storico facendo shopping nei negozi, che nei giovedì sera e estivi sono aperti fino alle 23. La Biblioteca Civica ha ospitato due appuntamenti. Nel pomeriggio il ciclo di incontri e il viaggio nella letteratura è proseguito con America e altri amori, dello scrittore e registra Mario Soldati. In serata allo spettacolo concerto Eravamo tutti sognatori, storia di un ragazzo e del suo braccio sinistro, dedica allo scrittore John Fante e al suo mondo musicale, con l'interprete e drammaturgo Paolo Patui e la Pordenone Big Bang, l'assessore comunale Claudio Cattaruzza. A conclusione del ciclo di conferenze e di incontri sulla tematica del viaggio, questa sera grande concerto della Pordenone Big Band e del professor Paolo Patui sulle letture di John Fante. Quindi l'America sarà protagonista di questo ultimo incontro e un incontro che sottolinea l'importanza e il successo che ha l'estate in città e che stanno avendo anche i negozi aperti il giovedì. Un altro giovedì sotto le stelle a Pordenone, un altro successo.